Perché noi formiamo questo gruppo dove per fede tu mi sei prezioso? Dove per fede io sono prezioso a te, perché capisco che Dio ha dato a te delle cose di cui io ho bisogno e Dio ha dato a me delle cose di cui tu hai bisogno. E quindi l'essere noi stessi, io sono me stesso, e nel momento in cui io ho cura di me stesso, io faccio del bene a te. Capite? Allora provate a ripescare il principio del cristianesimo, ama il prossimo tuo, non dimenticatelo mai, perché se manca l'amore a se stessi, noi non maturiamo ciò che siamo, ciò che lo spirito vuole che noi siamo, ma se io non maturo in me, tu non maturi in te, accidenti le qualità che hai, non servi né a te né agli altri. Capisci perché devi amarti? E amarsi in questo caso non è un egoismo, guarda, è un servizio. Abbiamo fatto un po' di apocalissi. Apocalipto vuol dire tirare su il velo della sposa e guardarla in faccia. Noi stiamo facendo, tra amici, questo lavoro con la scrittura. Stiamo tirando su il velo per capire cosa c'è sotto. Stiamo tirando su il velo per capire cosa c'è sotto.